che ha dato l'impulso alla musica che ricordavano l'inizio di Sigur Rosso che hanno raggruppato tutto quello che è protopina e tutto quello che sarebbe detto loro un omaggio a loro, a Sigur Rosso, il dottore sdandese e il pezzo, un articolo, tutto le del primo, un articolo le parole che lui pronuncerà non hanno un senso né in sdandese né in sdandese ma sono soltanto dei fonemi proprio per rendere assoluta la musica che ne seguiamo e la fusione perfetta tra musica elettronica e musica suonata da Sigur Rosso grazie 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 So, love, so, you suffer for me 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 So, love, 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 so, love Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.